Catturato e arrestato a Reggio Calabria pericoloso latitante esponente della criminalità Rom legata all'Andrangheta. In agenza sanitaria Crotone fuga dei medici dall'ospedale. La proloco di Taurianova riceve in concessione per la nuova sede i locali della ex stazione ferroviaria. Il suo festeggia i 150 anni dell'Istituto Nautico. Vi ritrovate con l'informazione di Calabria TV. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno catturato un pericoloso latitante già destinatario di ordinanza di custodia cautelare con il coordinamento della Procura della Repubblica, Direzione Distrittuale Antimafia, diretta dal dottor Giovanni Bombardieri. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno catturato un pericoloso latitante considerato uno degli elementi di spicco della criminalità regina ed in particolare della comunità Rom che ha attualmente il predominio territoriale sulla zona del quartiere Ciccarello. L'operazione delle fiamme gialle ha anche permesso di denunciare altre cinque persone, fiancheggiatori del latitante, che gli avevano assicurato sostentamento e rifugio attraverso una fitta rete di vedette e di guardaspalle, inoltre di sequestrare numerosi veicoli ritenuti oggetto di furto o non in regola con le disposizioni del Codice della Strada, oltre naturalmente a denaro contante di dubbia provenienza. L'uomo è ritenuto responsabile di aver partecipato ad un'associazione finalizzata tra l'altro al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso nell'ambito della cosca Borghetto-Latella, dominante nel quartiere di Reggio Calabria Sud. Le indagini infatti hanno consentito di appurare che l'organizzazione si avvaleva, specialmente per il compimento delle più efferrate attività criminali, della locale comunità Roma, utilizzando un sistema di Dout Des, legittimando la loro presenza sul territorio e garantendogli anche un'autonomia di azione, privilegio di cui non avevano mai goduto prima. La Corte di Cassazione ha annullato con un rinvio la condanna nei confronti di Marco Petrini, ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno nei confronti dell'ex magistrato Marco Petrini, rinviando alla Corte d'Appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Stessa pronuncia anche per Emilio Santoro, riqualificati i reati da corruzione in atti giudiziari in corruzione per l'esercizio delle funzioni. Il dispositivo emesso dalla Suprema Corte ha inoltre rinviato alla Corte d'Appello di Napoli per la quantificazione della confisca nei confronti di tutti gli imputati. La Corte di Cassazione ha inoltre annullato senza rinvio la sentenza per la parte riguardante la riparazione pecuniaria e per la sola posizione di Francesco Saraco alla subordinazione della sospensione condizionale della pena. Si tratta, ricordiamo, del processo staturito dell'inchiesta Genesi, deflagrata nel gennaio del 2020, travolgendo il distretto giudiziario catanzarese. Corruzioni in atti giudiziari, reato contestato in relazione ad azioni di denaro per l'ex presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro Marco Petrini, che avrebbe ricevuto in cambio interventi diretti sulla sentenza. Nel gennaio del 2023 la Corte d'Appello di Salerno aveva emesso la sentenza di condanna a quattro anni e quattro mesi per l'ex presidente di sezione, per il faccendiere invece Emilio Santoro tre anni e due mesi e per l'avvocato canazzarese Francesco Saraco un anno e otto mesi. Ora tutto ritorna nuovamente alla Corte d'Appello. Il decreto Calderoli sull'autonomia differenziata distrugge il sistema sanitario nazionale. Ci sarebbero 21 servizi sanitari regionali e le regioni più piccole o le più disagiate, fra queste la Calabria, verrebbero letteralmente desertificate. Lo ha detto Marina Sereni, responsabile sanità del PD, intervenendo alla mezzia terme ad un'iniziativa sul tema Sud, salute e sanità, condannati per sempre dall'autonomia differenziata. È un disegno che distrugge il servizio sanitario nazionale. Ci sarebbero 21 servizi sanitari regionali e le regioni più piccole o quelle più disagiate, tra queste la Calabria, verrebbero desertificate letteralmente. La Calabria già oggi è in fondo a tutte le classifiche e noi ci battiamo nei confronti della giunta regionale, così come nei confronti del governo nazionale, perché ai cittadini di questa regione vengano dati i diritti e i servizi di cui hanno bisogno. C'è una mobilità dalla Calabria verso il nord enorme, preoccupante, sia per i malati oncologici che per altri interventi molto più semplici. Questa cosa dell'autonomia differenziata distruggerebbe anche quel po' di sanità che ancora c'è in questa regione. Ma su questa materia c'è uno scambio scellerato tra la Lega, che vuole l'autonomia differenziata, e il primo ministro Meloni, che vuole il presidenzialismo, il premierato forte. Non si capisce perché forse Italia, in particolar modo il presidente Occhiuto, debba aderire a questo scempio che penalizza la Calabria, penalizza tutto il mezzogiorno e penalizza alla fine anche il nord, perché l'autonomia differenziata non rende più forte il paese, lo rende meno competitivo. Dividere la secessione dei ricchi, come qualcuno l'ha chiamata, l'autonomia differenziata, rende tutta l'Italia più debole. E quindi siamo al paradosso di nazionalisti, patrioti, che dividono la patria. Per dire no all'autonomia differenziata, come stiamo facendo in queste settimane, così come abbiamo fatto in aula al Senato, così come continueremo a fare nei territori, perché bisogna dire no a quello che noi abbiamo ribattezzato lo Spacca Italia, un provvedimento che vuole dividere l'Italia, ha targato Meloni, targato Lega Nord. Noi diciamo assolutamente no a dividere l'Italia. Diciamo semmai che al sud servono investimenti veri, servono investimenti per recuperare il gap con il nord del paese e serve soprattutto il cuore della battaglia politica, che è una sanità giusta, una sanità pubblica, una sanità che sia al pari passo con le altre regioni d'Italia. Continuiamo ad avere una migrazione sanitaria gigantesca, immaginiamoci cosa avverrebbe anche con l'autonomia differenziata approvata. Aumenterebbero ancora di più i divari, aumenterebbero ancora di più una sanità positiva o comunque che va meglio al nord e una sanità al sud che non riesce a trovare medici, ospedale al collasso, tutte le notizie drammatiche che tutti conosciamo. Tutto questo è inaccettabile, per questo il Partito Democratico è in campo, è in campo con iniziative, con un forte radicamento territoriale per spiegare ai cittadini che bisogna dire no all'autonomia differenziata per l'oggi ma soprattutto per il futuro dei nostri figli, per il futuro delle nuove generazioni calabrese e meridionali. I LEP, i livelli essenziali delle prestazioni vanno definiti e vanno finanziati e quello va fatto a prescindere dall'autonomia differenziata, quindi quello è un diritto che va colmato da parte del Governo verso il Mezzogiorno e verso la Calabria. L'autonomia differenziata dovrebbe partire da quell'assunto, siccome quell'assunto non c'è perché i LEP non sono né definiti né finanziati, l'autonomia differenziata di fatto è una secessione mascherata, è la secessione dei ricchi, è la vecchia e drammatica idea della Lega Nord di Bossi che oggi si tramuta con un nome ostico, autonomia differenziata che magari i cittadini non prende direttamente ma di fatto poi si arriva a quel risultato là. Le regioni del Nord andranno sempre meglio e potranno correre sempre meglio, le regioni del Sud purtroppo andranno ancora più indietro e i divari aumenteranno. È complicata la situazione in cui versa l'intero comparto della sanità nella provincia di Crotone, la fuga dei medici verso il privato e la fuga verso gli ospedali più appetibili. I medici vanno via perché non sono incentivati e vengono spesso chiamati a garantire doppi o tripli turni. I problemi della sanità crotonese sono tanti, non solo l'immigrazione sanitaria ma anche l'emorregia di medici come stanno titolando i giornali in questi giorni. Il commissario dell'ASP di Crotone Antonio Brambilla aveva commentato questa fuga di medici come vincita di concorsi in altre aziende ospedaliere. Ma il Partito Democratico di Crotone giovedì mattina ha visitato alcuni reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone interloquendo con il direttore sanitario. Diverse le criticità emerse, ci ha detto il deputato Nico Stumpo, nella sede provinciale del PD di Crotone. Senta, io direi così, ieri il commissario dell'ASP di Crotone ha specificato che i medici non sono andati via, non sono scappati via ma semplicemente hanno vinto il concorso al trovo, ovvero a Catanzaro. Lei cosa risponde? Lei cosa ci dice? Guardi, è la stessa cosa che ci è stata riferita ora nell'incontro che abbiamo avuto con la dirigenza dell'ASP di Crotone. A me sembra evidente una cosa, c'è un problema su come la regione ha fatto i concorsi perché non è stato bandito un concorso anche per lasciare in tutte, in tutti gli ospedali i posti necessari, ma è stato fatto un concorso che aveva una capacità attrattiva verso i poli universitari ed è successo semplicemente che se sbagli a fare il concorso poi ne paghi le conseguenze. Molti due, almeno i due che dal reparto di cardiologia dell'ospedale di Crotone sono ritornati a cardiologia a Catanzaro all'ospedale hanno di fatto rifatto un ritorno a casa. Io penso che però il problema sia nella gestione, nel come si fanno questi concorsi, c'è la necessità di farli e di dare a tutti gli ospedali pari dignità e questo è quello che è mancato nel concorso fatto della regione, questo che andrà fatto e con questo ragionamento con il gruppo regionale vorremmo fare delle iniziative mirate in regione. Io direi così, un ospedale che deve dotarsi di altre figure professionali, pensiamo ad esempio al reparto di emodinamica ancora in divenire. Il reparto di emodinamica è uno dei problemi più gravi che c'è nell'ospedale di Crotone, anche una delle ragioni per cui si perdono le professionalità. Non si può chiedere a dei bravi giovani medici di non poter fare appiene il proprio lavoro, che è quello di salvare vite, ma soltanto quello di fare della prevenzione sacrosanta, ma qui poi c'è bisogno anche di dare un corso successivo. Emodinamica, da quello che ci è stato detto sempre in l'ASP di oggi, è stata già acquistata il macchinario, si sta facendo un lavoro da parte dell'ASP di Crotone per riaprire il reparto di emodinamica. Noi controlleremo perché nel minor tempo possibile questo diventi realtà, è utile, è necessario e è doveroso per i cittadini della provincia di Crotone. Il Comune di Reggio Calabria ha assegnato il premio 8 marzo, un riconoscimento a otto cittadine che per il loro impegno sociale, civile, culturale, sportivo e lavorativo hanno contribuito a mantenere alto il nome della città ed il valore delle donne nella società. La giornata è bellissima per noi donne, ma penso per tutta la città, perché questa non è la festa della donna, ma è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Questo cambio di denominazione secondo me ha dato un senso diverso a tutto ciò che avverrà in queste giornate nel corso degli anni. Il mio sessorato che è alla città consapevole, diciamo che calza pennello al ruolo che le donne dovrebbero avere oggi, cioè essere più consapevoli delle proprie potenzialità, delle proprie capacità. Io dico sempre che dovrebbero avere il coraggio di osare in ogni campo, nel campo professionale, nel campo delle attività sussidiarie, perché osando possono davvero mettersi in competizione. Non parliamo di privilegi, di riserve, parliamo di merito, purché gli si dia l'opportunità. Quindi le opportunità sono quelle che servono. Oggi premiamo otto donne del nostro territorio che nella loro vita professionale, familiare, diciamo associativa, hanno lasciato il segno. Ecco, occorre lasciare il segno. È un po' quello che ci proponiamo noi con la giunta del sindaco Falcomatà in questi ultimi due anni di mandato, lasciare un segno incidere su qualcosa. Io sto cercando di farlo, ho iniziato da poco, nei settori di mia competenza, istruzione, università e pari opportunità. Lo facciamo con concretezza, senza, diciamo, trionfalismi o celebrazioni inutili, ma con azioni. Una delle iniziative di questo 8 marzo è recuperare il premio 8 marzo istituito nel 2021, che è una benemerenza cittadina che vuole omaggiare le donne della nostra città che si sono distinte nei loro vari campi di azione, dal lavoro al sociale, allo sport, alla cultura, insomma, dare lustro e riscontro a regine che hanno operato al servizio della nostra comunità, al servizio della collettività. Allo stesso tempo però l'8 marzo vuole essere un'occasione anche di riflessione rispetto a tutte quelle che sono però le altre tematiche connesse in generale al mondo femminile, a quelle che sono le problematiche relative anche al tema della violenza sulle donne. Proprio per questo anche simbolicamente abbiamo voluto oggi consegnare all'associazione Piccola Opera che ha vinto la manifestazione di interesse le chiavi del bene confiscato e riqualificato con gli 800 mila euro di agenda urbana che diventerà, che sarà già da oggi un centro antiviolenza, un centro di prima accoglienza per le donne vittime di violenza, ma anche un luogo nel quale le donne vittime di violenza possono programmare, immaginare, sperare in un futuro diverso rispetto a quello che invece avrebbero potuto avere non denunciando e quindi percorsi di reinserimento lavorativo, percorsi di assistenza legale, percorsi di assistenza psicologica, laboratori, insomma tutto quello che dovrà fare in modo che si possa rappresentare una ripartenza e quindi lasciarsi alle spalle quello che hanno visto fino a quel momento. E' stato presentato presso la fattoria didattica Iunceum di Vivo Valencia il bando del GAL Terre Vibonesi sul sostegno alla diversificazione delle attività agricole per lo sviluppo di progetti di agricoltura sociale. Il sostegno alla diversificazione delle attività agricole per lo sviluppo di progetti in agricoltura sociale è stato al centro della presentazione del bando del GAL Terre Vibonesi che si è tenuta presso la fattoria sociale didattica Iunceum di Vivo Valencia, alla quale hanno partecipato Michele Napolitano, presidente dell'associazione di volontariato La Goccia, Vitaliano Papilo, presidente del GAL Terre Vibonesi, Emilio Pierpaolo Giordano, direttore dello stesso GAL, Pino Colocchiella, portavoce del forum del terzo settore, Anna Maria Bavaro, portavoce del forum regionale sull'agricoltura sociale, Alessandra Celi e Giacomo Giovinazzo, rispettivamente dirigente del settore 7 Dipartimento Agricoltura e direttore generale dello stesso Dipartimento della Regione Calabria. Credo che l'agricoltura con queste iniziative diventi non solo agricoltura ma diventi altro, diventi una sorta di connessione sociale per attivazione anche di economie. Noi abbiamo attivato una misura all'inizio come regione, la 6.2, poi attraverso i GAL che fa sviluppare delle attività ex agricole in area rurale. Di quello che stiamo parlando è esattamente questo, cioè la contaminazione tra un mondo produttivo dell'agricoltura e un mondo a servizio della socialità che spesso praticamente va a costruire percorsi di inclusione sociale che su altri settori mancano. Credo che queste siano le attività che la Commissione europea ha finanziato su cui la Calabria sta avendo una performance abbastanza elevata. Questi esempi di avvisi che sono sul territorio sono proprio calati in base al fabbisogno territoriale. L'integrazione che si vuole realizzare tra l'ambito agricolo e l'ambito sociale è una risposta a delle necessità che abbiamo in Calabria maggiori rispetto ad altri territori dove la componente sociale è poco sviluppata e poco alimentata anche da risorse sia nazionali che regionali e quindi il fabbisogno è molto altro. Quindi si cerca di dare delle risposte delle famiglie con ragazzi con disabilità o anziani che non trovano una collocazione in diversi ambiti per riuscire a trovare sia una collocazione lavorativa, in molti ambiti abbiamo avuto diverse belle esperienze che possiamo raccontare, sia anche la possibilità di socializzare e riuscire a trovare una loro collocazione positiva nell'ambito del contesto sociale. Quindi è sia un'occasione di incontro ma anche un'occasione che può portare a degli inserimenti lavorativi come in altri contesti nazionali queste realtà sono riuscite a sviluppare. Qual è il ruolo del GAL in questo progetto? Ovviamente è centrale perché il bando è del GAL e io lo dico spesso ogni volta che presentiamo un bando è bello ma oggi è ancora più bello perché presentare un bando che parla di agricoltura sociale in un territorio che ha tanto bisogno ma soprattutto tanti soggetti che hanno bisogno di un'attenzione particolare e quindi mettere a disposizione delle somme verso queste categorie è davvero molto 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 bello e importante. La novità abbiamo pensato molto a questo bando e l'ascolto del territorio ci ha detto che cosa? Di allargarci al territorio perché una sola fattoria sociale in un luogo è poco. Il nostro territorio è un territorio particolare geograficamente parlando e quindi con questo bando puntiamo a creare altre fattorie sociali nelle zone interne, in montagna ma così come in altri luoghi e non solo nei centri urbani. La Proloco di Taurianova ha avuto in concessione dalla regione i locali della ex stazione ferroviaria dove sorgerà la nuova sede. Soddisfatto il Presidente nello Stranges. Qua siamo in un luogo storico di Taurianova, ecco Presidente, raccontiamo in tenuta perché state ristrutturando perché tra poco noi spieghiamo ai nostri telespettatori che ci stanno vedendo cosa avverrà qui in questa, perché qua c'è una storia. Sì c'è una storia per tutto Taurianova e credo anche per La Piana perché credo che sia una delle stazioni più antiche delle ferrovie calaburucane. Qui sta per sorgere diciamo la nuova sede della Proloco, una sede che sicuramente avrà un'accoglienza da parte dei cittadini molto accolorata perché è una sede che rievoca un po' quello che è il passato di tanti taurianovesi perché qui se noi andiamo anche dentro possiamo leggere la storia di Taurianova. Ci sono ancora tante foto, tante cose all'interno che ricordano un po' quello che questa stazione ha rappresentato per tutti i taurianovesi che andavano a scuola. La scuola è pronto a lavorare, gente che andava in altri paesi. Penso che bene o male da qui sono passati tutti, quelli della mia età sicuramente sono passati tutti e quindi qui ora nascerà la nuova sede della Proloco, ci saranno anche ospiti nostri alcune associazioni come il Cuore che Sorride, ci saranno associazioni di anziani che permetteremo di venire qui il pomeriggio per stare insieme a noi, ci sarà il servizio civile, il servizio sociale, il Banco Alimentare, cercheremo di rievocare un po' il passato con il presente, in maniera tale che possa la stazione avere nuova vita. Naturalmente la struttura ha bisogno di tanti lavori, tanti lavori di strutturazione, noi ce la stiamo mettendo tutta. Questo è un bene della regione Calabria? Questo è un bene della regione Calabria che prima ancora era delle ferrovie Calabro-Lucane che poi sono passate di proprietà di nuovo alla regione e la regione ha fatto una manifestazione di interesse, noi abbiamo partecipato, ci ha ritenuto meritevoli di avere questa concessione e quindi abbiamo ora questa struttura che dobbiamo riportarla a nuova vita. Ecco Vice Presidente, una prologo attiva ecco quello di Tauriano? Sì, siamo diciamo molto più che attivi, quanto siamo presenti su molti campi, dal servizio civile appunto come diceva prima il nostro Presidente, al servizio sociale, diamo sostegno alle famiglie, diamo aiuto alle famiglie bisognose e chi necessita chiede il nostro aiuto. abbiamo un bel gruppo operativo, abbiamo un bel gruppo di persone che ci appoggia come i ragazzi del nostro servizio civile che come se si vuole affacciare sono già all'opera, sono dentro, stanno sistemando le fotografie antiche e sono all'opera alla realizzazione di un disegno che sarà realizzato, ve lo dico qua in anteprima, un bozzetto a Montefiore dell'Aso, il primo 1, 2 e 3 giugno. L'8 marzo del 1874 veniva istituito l'Istituto Nautico di Pizzo e 150 anni dopo, con una solenne cerimonia, è stata celebrata questa importante ricorrenza. E' dell'8 marzo 1874 il regio decreto che esancisce la nascita a Pizzo della Reale Scuola nautica e di costruzioni abilitata a preparare capitani di gran cabotaggio e costruttori navali di seconda classe. 150 anni dopo, il Nautico di Pizzo festeggia questo importante traguardo con una cerimonia solennizzata dalla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, con in testa il Vescovo della Diocesi, Monsignor Attilio Nostro. Rappresenta la storia di tutto il nostro territorio. Noi abbiamo avuto la possibilità di godercelo in questi ultimi dieci anni e a farlo anche crescere e sono delle soddisfazioni. Però naturalmente c'è stata sempre l'innovazione e la tradizione. A partire dal 1874, perché Pizzo è una realtà marinaresca, una realtà di pescatori, in questi ultimi anni abbiamo cercato pure noi l'innovazione rispetto ai laboratori che c'erano in precedenza, quindi siamo passati dal meccanico al digitale. Qui abbiamo ancora motori di nave del 1934, però non li possiamo più utilizzare perché sono obsoleti. I ragazzi ormai vanno con il digitale e la prova ne è del simulatore di volo che oggi abbiamo inaugurato, un Boeing 737 che dà la possibilità ai ragazzi di fare esercitazione, un'esercitazione che le consenterà di accedere anche al mondo del lavoro. Il nautico di Pizzo rappresenta oggi una delle migliori istituzioni scolastiche dell'intera regione, segnalandosi per l'incrementarsi della popolazione studentesca che proprio quest'anno ha raggiunto il numero record di iscrizioni con la creazione di ben sei prime classi, prova concreta e diretta dell'attenzione che l'Istituto destra in tutta la regione. Mentre in Calabria c'è un calo demografico, questa scuola ha raggiunto il massimo storico di iscrizioni, anche perché provengono da tutta la Calabria, conoscono questa eccellenza, questa realtà e i diplomati del nautico, il 20% immediatamente dopo che si diploma trova occupazione. Li troviamo su tutte le navi mercantile, turistiche del mondo. Presso il liceo Mazzini di Locri nel Regino, Salvatore Blasco, autore del libro Gioi per sempre, ha presentato il suo ultimo lavoro e ha dialogato con gli studenti. E' stato presentato Gioi per sempre, diario di un commissario di polizia, l'ultima fatica letteraria di Salvatore Blasco. La presentazione si è svolta presso l'auditorium del liceo Mazzini di Locri. importante il fatto che gli alunni delle quarte e delle quinte classi hanno potuto dialogare pienamente e intensamente proprio con l'autore, Salvatore Blasco, grazie a spunti ricchi di interesse e curiosità. L'incontro ha visto la moderazione delle docenti Federica Malara e Girolama Polifroni, quest'ultima vicepreside dello stesso istituto. Importante il saluto istituzionale del preside a Francesco Sacco e l'arricchimento musicale di intrattenimento del coro del Mazzini. Musica, cultura e approfondimento si fondono al Mazzini, una scuola che si conferma all'avanguardia e sempre in aggiornamento e in profondo rinnovamento. Ecco, noi abbiamo organizzato una due giorni proprio in prossimità della festa internazionale della donna per far riflettere i nostri studenti su due importanti tematiche che purtroppo sono all'ordine del giorno della cronaca, che è purtroppo la violenza di genere e poi l'intercultura. Lo abbiamo fatto nell'ambito dell'attività di educazione civica, quindi le quarte svolgono quest'anno questa tematica, l'intercultura e le quinte i diritti umani e in particolare la violenza di genere. Ecco, con la presentazione di questi due libri dello scrittore Salvatore Blasco vogliamo far comprendere come se una persona viene accolta, viene integrata, può dare tanto e può essere un arricchimento per la società nella quale si trova poi ad operare. Quindi chi arriva da noi non viene a prenderci nulla ma anzi viene a portarci qualcosa, ad arricchirci dal punto di vista umano, culturale, professionale e probabilmente anche economico. Poi per quanto riguarda l'altra tematica, la violenza di genere, ecco, molto presente, ogni giorno purtroppo sentiamo di qualche femminicidio. Vogliamo che i ragazzi, ecco, riflettano su questo importante tema e che comincino veramente ad operare come futuri educatori per cercare di sdradicare proprio dalle radici questo fenomeno, quindi attraverso l'educazione. È tutto per questa edizione e grazie per aver seguito il nostro Tg. Grazie per aver guardato il nostro Tg.